sportivi buon pomeriggio gara di coppa italia marsala d'attilo vi ricordo il risultato dell'andata 1 a 1 d'attilo non c'è su camele intanto è iniziata la gara con il marsala in possesso di palla calcio d'angolo battuto ancora con la difesa del d'attilo che recupera entra in aria un giocatore azzurro pericolosa l'azione il tiro è il gollo da il numero 10 calabretta si sblocca il risultato e poi l'ha bloccato dopo che eva tirato in porta un suo avversario ed è il 2 a 0 ed è il 2 a 0 al 28esimo minuto della ripresa secondo tempo molto probabilmente ha creduto più il marsala a passare il turno di coppa italia che il d'attilo con le occasioni di saluto e anche del numero 8 pisciotta ed è il terzo gol il terzo gol da parte di cefali su tumbarello poi viene pescato il numero 7 cefali ed è il quarto gollo per la formazione marsalese con il numero 5 costa